Ciao a tutti legionari per Barozzi non iscritti, io sono Alessio PCM e vi do il bentornato sul mio canale su questa campagna di Victoria 2 con la mod HPM e con il Giappone Imperiale, Kimigai o Banzai. Votiamoci subito in partiti, infatti ho già fatto partire il tempo perché vogliamo espandere questo impero giapponese e mamma mia ragazzi non avete idea del fastidio che mi provoca a vedere l'Unione Sovietica, non l'Unione Sovietica di per sé ma il suo colore rosso al confine con il Giappone. Ah che bello, quindi ospiteremo le Quarte Olimpiadi, è un onore e Nobel Prize, sì Nobel Prize, premio Nobel per la letteratura, ottimo. Siamo stati beccati che cerchevamo di fare un casus belli per prendere il Tibet ma abbastanza tardi e questo è assolutamente un bene. Relazione al massimo con l'impero tedesco, sì, ok, perfetto. Mi sa che mi sta vibrando il cellulare, probabilmente mi sta chiamando qualcuno, pausa ragazzi. Sono davvero contento ragazzi di aver fermato la registrazione del video per rispondere a una cavolo di chiamata spam. Hai bisogno di un prestito? No, lasciami pace. Che poi magari non devi neanche dire niente perché sennò dici di sì e allora accetti chissà quale contratto. Che mondo, che mondo, non si può vivere così, non si può vivere così ragazzi. Va bene, buttiamo gli inglesi fuori dal Guangdong, qualcuno rompe le balle nell'impero ottomano? Sì, francesi ma ragazzi, basta, basta rompere le balle. Qua dovremmo fare qualcosa per quanto riguarda gli italiani, abbiamo ancora punti da spendere, li utilizziamo. Li utilizziamo con la Persia, perché no? E con l'Egitto? Va bene. Va bene, tra l'altro il caso Spelli, come siamo messi, siamo al 62%, questo va benissimo. Tra l'altro, vabbè no, in realtà non ci interessa fare alcunché sul Tibet, perché se non sbaglio nessuno stava cercando di influenzarlo al momento, esatto. C'è qualche notizia interessante, la marcia su Settinie, Montenegrini, vabbè, Tanutuva ci teme, fate bene. Ma finché siete nella mia sfera di influenzare in realtà potete stare abbastanza tranquilli, quindi don't worry. Ondata di un res coloniale, quando mai? Quando mai? Vabbè, cominciamo a fare la prossima armata imperiale, tra l'altro. Sempre che questi qua non siano niente, lo facciamo dopo. Lo facciamo dopo. Tra l'altro l'Afghanistan interverrà a difesa del Tibet, bocca al lupo Afghanistan. Qua secondo me vale la pena spezzare l'esercito e facciamo una cosa di questo tipo. Ok. Con l'altro esercito qua che avanza a nord, così ci mettiamo poco. Premio ennovole della fisica. Tra l'altro questi qua sono tutti eventi, penso, della mode HPM. E mamma mia quanti ne stiamo facendo. Allora, Nagano, Nagoya, Fukushima, Akita, Kagoshima, Okayama. Ok. Abbiamo la base per la prossima armata imperiale. C'è una rivolta in Spagna, qua possiamo tra l'altro avanzare ancora. Pericolosa la rivolta in Spagna? Un pelo sì, un pelo sì. Sono tentato di bandagli su porto. In fondo, perché se no avrei qua la terza armata imperiale? Andiamo, che non si sa mai. Spagnoli, non siamo alleati? Noi non lo volete neanche l'alleanza. Ah, vabbè, vediamo di migliorare le relazioni comunque. Abbiamo finito la ricerca, andiamo a farne un'altra. Andiamo a fare industria, flotta, supply range. No, questo che aumenta l'output delle fabbriche, why not? Va bene. Come siamo messi con la nostra guerra? Benissimo, benissimo, assolutamente benissimo. Possiamo proporre una pace, ma non accetterebbero. Vabbè, con la caduta della capitale probabilmente accetteranno. Eccoci qua. Buona miseria, ho il cellulare sulla scrivania, sul comodino lontanissimo e l'ho sentito comunque che vibrava. Allucinante. Va bene, questi qua cominciamo a spostarli di qui. Voi cominciate a tornarvene invece su qua. Ok, truppe in Spagna. Ti vede tacciata la pace. Ok, direi che agli spagnoli in realtà non serve il mio aiuto, quindi questi qua li mandiamo di nuovo qua sotto. E tra l'altro ci serve il supply range aumentato della flotta, perché comincio a vedere che soffrono questi viaggi. Tra l'altro qua possiamo tranquillamente permetterci di, esatto, far questo. E adesso il nostro impero è finalmente connesso. Voi tornate a Cumming. Qua fra poco uniremo di nuovo l'armato imperiale e la guardia coloniale, naturalmente. Cosa succede? Scoperta maggiore, minori interessi. Beh, buono. Alleanza proposta dall'impero ottomano. Ok, ti sicuro sarà in guerra con qualcuno. No. Ah, meglio così. Meglio così. Senz'altro non mi lamento. Possiamo fare un'altra riforma, vogliono la stampa libera. Va bene. Siamo proprio dei riformatori nati, ragazzi. Diciamocelo. Ma quanto siamo buoni. Ma quanto siamo buoni. E quanto è grande il Giappone. Quanto è grande l'impero giapponese. Chissà, magari prima o poi prenderemo anche il Kingai. Però vi dirò, è una conquista che vale la pena fino a un certo punto. Sì, qua producono del carbone, ma è tutto quello che c'è. In realtà anche il Tibet non è che fosse ricchissimo. E l'ho fatto più che altro per, non dico motivi di estetica, ma per questo obiettivo che avevo di circondare per via terrestre la Cina, ecco. Abbiamo detto che facciamo la ricerca della logistica navale. Ok. Ah, giusto. Fatemi controllare un attimo, tra l'altro. Le nostre aree di influenza. Ok. Guangdong, qua abbiamo gli inglesi. Quando mai. Impero ottomano, abbiamo i francesi. Vediamo nelle altre zone. Abbiamo la Persia. E là ci sono gli italiani. Scusate il breve taglio, ma a quanto pare questo qua è l'episodio delle interruzioni. C'è sempre qualcosa. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Allora. Cosa stavamo facendo? Il Tibet l'abbiamo preso, va bene. Come siamo messi? Abbiamo rimesso l'Egitto in sfera. Sì, ok, è vero. L'ho appena fatto. Qua dobbiamo semplicemente continuare a gestire questi ragazzi qua. Dato che abbiamo tanti punti, secondo me vale la pena anche un attimo spingere con le relazioni. Ok. Continuo a migliorarle anche col Guangdong, nonostante prima o poi gli dichiareremo guerra, eh ragazzi. Tra l'altro mi chiedo se potrebbe valerla pena attaccare prima il Guangdong delle Filippine. Ma no, ma no. Facciamo che ci occupiamo prima delle Filippine che ormai è quasi fatta. E anzi, a tal proposito, dobbiamo toglierle naturalmente dalla sfera americana. E adesso voglio fare una cosa abbastanza... No, non posso. Avrei investito se no nelle ferrovie delle Filippine per prendere ancora più influenza. Ma è una cosa che non posso fare. Qua tra l'altro abbiamo gli inglesi che continuano a provarci. Apprezzo il tentativo, ma no. Qua sono gli Stati Uniti. In Egitto al momento nessuno spinge. In Spagna. Qua sempre i francesi. L'Austria ci offre l'alleanza, ma non la voglio. Ok. Tra l'altro sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Facciamo una cosa così. Ok. Qua abbiamo detto che l'armata imperiale è pronta. Io comincerei a fare anche l'unità di artiglieria. L'unica cosa è che non sono certo che queste province siano effettivamente giapponesi. Purtroppo, e l'ho già detto, non essendo province e territori che conosco così bene, non so geolocalizzarli così facilmente. Vabbè, vabbè. Troveremo un modo. Odor. Che peccato che quella serie sia finita così male. Sapete naturalmente a cosa mi riferisco, ragazzi. Magari a alcuni di voi è anche piaciuto. Se avete capito a che serie mi sto riferendo, scrivetelo qua sotto nei commenti e ditemi se vi è piaciuto o meno. Se non l'avete capito, non importa. Forse è meglio così. Ok, abbiamo quasi finito la ricerca della logistica navale. Va bene. E come ricerca successiva andiamo, andiamo, andiamo di morale. Perché no? Vogliamo lo meglio esercito di sempre. Abbiamo raggiunto il massimo dei punti qua sotto. Buttiamo fuori allora l'ambasciata italiana in Egitto. Come siamo messi qua? Siamo a 35 e... Ah ma... No, ma non sono in sfera di nessuno. L'avevo già fatto? Allora. Ah, ok. Sapete, ragazzi, che ero convinto... Cosa vedono i miei occhi di elfo? Signori, la Scandinavia si è unificata. La Scandinavia si è unificata e non è più nella sfera tedesca. Non vi fa venire in mente qualcosa di bello? Non so. La butto lì, un po' di ferro dal ghiaccio. Fantastico. Fantastico. La adoro sta cosa. Comunque non voglio davvero rischiare della... Di fare una giustificazione perché sono sicuro al 100% ve lo dico perché ci ho provato a superare l'infamia. Adesso siamo davvero al punto in cui se superiamo il 25 di infamia una nazione qualsiasi è rivale e ci dichiara guerra e i nostri alleati non ci supportano. Quindi assolutamente è una cosa che non possiamo fare. Dobbiamo starcene tranquilli. E Scandinavia io ti voglio bene perché vai a rompere le balle nella mia sfera? Non si fa, non si fa. Maledizione. Ma fatti gli affari tuoi. Vuoi essere alleata? Va bene, alleiamoci. Mi stai molto simpatica. Tieni. Miglioriamo anche le relazioni. Però non devi venirmi a rompere le balle nella mia sfera, porca miseria. No, non voglio spingere nelle Filippine. Ok. Miglioriamo ancora le relazioni anche con loro. Ok, teniamo sott'occhio le Filippine ma neanche troppo. Cioè comunque siamo messi abbastanza bene. Per quanto riguarda le fabbriche invece, fatemi vedere un po'. Nessuna sembra che abbia raggiunto la piena capienza. E in realtà piuttosto che a 5 magari potrei cercare di ampliarle quando sono, che so, a 4,5. Comunque non è una cosa così rapida e ci permetterebbe comunque di non uscire di testa assolutamente. Ok, fatemi vedere un attimo quanta gente abbiamo in sfera. Mamma mia ragazzi, la nostra sfera è davvero ampia. Davvero, davvero ampia. Ok, smettiamola di investire qua. Proviamo a spingere un paese alla volta qua nell'America Latina. Da chi cominciamo? Cominciamo. 47, 63, vabbè. Cominciamo per potenza. Cominciamo a investire in Cire. Grazie, molto gentile. Sono contento di aver terminato la ricerca, però avrei voluto. Ho detto Cire ma volevo dire Perù? Scusate ragazzi. Volevo chiaramente dire Perù ma, quanto pare, non ne sono stato in grado. E come prossima ricerca invece cosa vado a fare? Sì, ma perché no? Il Bolt Action Rifles non è male perché diminuendo ancora il Front Width rende i nostri eserciti sempre più efficaci e wow, bene. L'armata imperiale effettivamente gli ho dato altre unità, questo è ottimo. Vediamo se riesco a dargli anche gli ingegneri. No, queste sono tutte province non giapponesi, però queste due invece da Tokyo facciamo anche delle truppe di questo tipo. Non so se andai, sinceramente è Amami. Proviamoci. Facciamo degli Usseri e vediamo come va. In Egitto si stanno già preparando a riromperci le balle e anche in Persia. Bravi, bravi. E bravi italiani. Bella mossa. Ok, qua non stanno spingendo. Francesi, non vorrete mica spingere in Spagna? Eh no, non è una grande idea la vostra. Con l'Iquefaction Plant permette di attivare il petrolio. Fiera Mondiale. Ottimo. Curiosità, viene fatta una delle nuove fabbriche? Naturalmente no. Eh, però questo mi dà proprio fastidio, che se non dai tu la spinta non te le fa determinate cose il gioco. E questo spiega perché, come ho detto qualche video fa, prendersi i liberali è la fine. Cioè un governo liberale ti distrugge proprio completamente l'economia, perlomeno su Vittoria 2. Chissà se nel 3 questa cosa sarà un po' meno evidente, ovvero se anche con un governo liberale sarà possibile giocare diversamente, ma comunque gestire l'economia della propria nazione in modo soddisfacente. Perché è una cosa che purtroppo in Vittoria 2 non c'è. Ok, con il budget siamo comunque messi molto bene, questo mi fa piacere. Siamo a 20,64 di infamia, quindi... Però, sapete che, davvero, non voglio rischiare di essere beccato con 25,1 di infamia, quel tanto che basta perché ci rompa le balle. Ok, abbiamo raggiunto il massimo nell'impero ottomano, c'è qualcuno che sta spingendo? Sembrerebbe di no. Potremmo migliorare un po' le relazioni ancora col Peru. Eh, perché no? Con gli Stati Uniti che hanno superato gli inglesi. Ah, siamo dietro di voi, eh. Stiamo arrivando, stiamo arrivando. Vogliamo le ferrovie di nuovo livello? O preferiamo più supply limit? No. Polimeri sintetici, assolutamente. Andiamo a fare quelli e, secondo me, fra un po' varrà la pena mettere di nuovo un governo con il capitalismo di Stato e costruire le fabbriche che i nostri capitalisti hanno scelto di non fare. Magari è una cosa che andrò a fare lo screen? No, no, vabbè. La posso tranquillamente fare anche ora volendo. Magari portiamo la velocità a 3, giusto per non far sparire tutto. Ok. E allora, riordiniamo le fabbriche. Quali sono le nuove fabbriche? Adesso è un po' indifferente dove vado a farle, eh. Colliquefaction plant, questa qua. Ah, trasformiamo essenzialmente il carbone in petrolio. Ma in realtà, sapete che, secondo me, non è una cosa che ci serve particolarmente. Wow! Siamo stati i primi al polo sud in compenso. E questo probabilmente ci farà assolutamente superare i... Gli inglesi. Infatti, terza grande potenza. Alla grande, ragazzi. Alla grande. E per il prestigio. Assurdo. Aspetta che, a parte la fabbrica di telefoni, non c'è molto da fare. Però, ragazzi, proprio in pieno stile Giappone, io direi che andiamo a fare un bel po' di fabbriche di materiale elettrico e di telefoni. E perché no? Magari anche di parti di macchinari, se possibile. Dio, non che in questa provincia si possa fare granché. No, anzi, qua non quella di telefoni, ma quella di parti elettriche. Ok. Perfetto. Ok, quasi nessun cambiamento qua. Qua tutto apposto, tutto apposto, tutto apposto, tutto apposto. Va bene. Quante rivolte? Abbiamo una rivolta in Corea, poi. Egitto e Persia. Egitto ce la fate? Sì. Persia? Ok, tutto apposto. Non devo dislocare le mie truppe da nessuna parte. E questo ci rende molto felici. No, non mi rende felice il fatto che queste truppe siano venute fuori da Mami. Wow, Mami. No, penso sia Mami. Dubito fortemente che sia Mami. Non è ancora arrivata la flotta. Più lenti quello che pensavo. Tornatevene qua. Ok. Voi vi fate imbarcare e sbarcate qui. E a questo punto lascio là la flotta. E voi sarete la dodicesima armata imperiale. No, tredicesima addirittura. Mamma mia. Dicesima. Imperial. Armi. Cosa succede? Radicali comunisti. Quando mai? 10% diventano più comunisti. Oppure una bella purga. Eh no. No, 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 no. Ok, qua nessuno riesce a fare nulla. Qua abbiamo al massimo dei punti e non sembra che ci siano fortissimi investimenti da parte di altri. Qua ci sono i francesi invece. In Spagna. Maledetti. Cioè, non stanno più investendo, però facciamogli passare la voglia comunque. Spostiamo qua la flotta a Kyoto e cominciamo a giustificare qua sotto. protettorato e alla via così. Mamma mia, ragazzi. Comunque siamo molto vicini, eh, gli americani. Questa cosa mi fa piacere. Monitor Ironclad. Ok, decisamente è arrivato anche il momento di fare il nuovo tipo di navi. Ok, in Spagna possiamo diminuire l'opinione dei francesi. In Peru cosa possiamo fare? Possiamo diventare neutrali. Piano piano, piano piano, ragazzi, ce la facciamo. Ok, ci hanno beccato 2,6 di infamia. Comunque è decente. Riusciremo quindi ad attaccare il Guangdong. Summit austro-tedesco. Ok, non sono riusciti a migliorare le relazioni tra di loro. Mi dispiace per voi. O forse no. Ma no, sì, per l'omore di Dio. Cioè, non ci interessa, ma possiamo anche dire che ci dispiace. Guardali qua. Ciao, francesi. 49 punti buttati. Qua purtroppo non riesco a buttarli fuori prima che arrivino a 50. Neanche qua, in cui non stavo rinvestendo. Gli italiani, naturalmente, hanno ricominciato a investire. Elezioni. Certificazione di guerra. No, Portogallo, non farlo. Non dichiarare guerra al Guangdong. Ti porti dietro gli inglesi, più che altro. Beh, speriamo che gli inglesi non abbiano voglia di un conflitto per il Portogallo. Ok, abbiamo dichiarato guerra a loro. Andiamo a prendere Manila. No, aspetta però. Spezziamo l'esercito e vediamo di farlo in due mosse. Ok. Cioè, in due mosse. Di farlo il più rapidamente possibile, banalmente. Ok, riusciamo a buttare fuori l'ambasciata? No. Supply limit. Versi a Peru. No. Scusate ragazzi, non volevo fare questo doppio click. Mi è scappato. Steel steamers. Ma sì, facciamo questo qua, delle basi navali. Prima o poi ci toccava costruirle. Chiamate in guerra dall'Olanda. Francia e Olanda contro Inghilterra, Portogallo e Brasile. Buon divertimento. Ok. Andiamo qua sotto. Vediamo come siamo messi, tra l'altro con la nostra guerra. Non accettano. Vabbè, li occupiamo completamente. E poi vedete come accettano. Aumentiamo l'opinione qua. Miglioriamo le relazioni con la Spagna. Con l'impero ottomano. Con il Siam. Controlliamo un attimo qua come siamo messi. Ah, giusto, in Spagna dobbiamo diminuire l'opinione dei francesi. In Siam, naturalmente, quella degli inglesi. In Persia nulla di che. In Egitto sembrerebbe nulla di che. Si arrendono. Vale. Lasciamo le truppe di guarnigione a Manila. Riforma economica nelle Filippine. Ah, le Gasby e Mindoro produrremmo caffè. Al posto di grano. Perché no? Poi possiamo rifare questa. Va bene. E voilà. Lasciamola alla decima armata imperiale. Diminuiamo l'opinione. No, aspetta. Ci conviene ributtare fuori l'ambasciata francese qui. Tra l'altro, ragazzi, mi sa che abbiamo raggiunto il punto, diciamo, massimo di nazioni nella nostra sfera di influenza. Perché è davvero difficile gestirle tutte. Cioè qua basterebbe una distrazione minima e è un casino. Mettiamo intervenzionismo. Qua, alleanza offerta dagli Stati Uniti d'America, certo. Amico mio. Guarda tra Giappone e Filippine. Guandong, il nostro migliore alleato. Sì, il prossimo su cui giustifichiamo. Invenzione. Crollo del mercato. Rivoluzioni in Australia, addirittura. Rivoluzioni in Cile. Rivoluzioni in Uruguay, a Puerto Rico. Che periodo turbolento. La Scandinavia ci teme, ma è mia alleata. Finché non rompe troppo le valle nella mia sfera di influenza. In realtà non abbiamo problemi. Andiamo a buttare fuori gli inglesi. Il Perù, ragazzi, è diventato molto meno interessante, naturalmente. Ok. E il timer è scoccato. Ottimo. Siamo arrivati fino al 1911. Abbiamo fatto un bel po' di roba. Anche se, naturalmente, penso che gestire la nostra sfera sia una delle cose che davvero mi richiede più impegno. Il fatto che ci sia questa guerra in corso, tra l'altro, mi lascia pensare. A parte il fatto che stanno vincendo i francesi ed è assurdo, cioè i francesi olandesi ed è assurdo. Ma mi fa pensare che il Portogallo forse non sarebbe così interessato a una guerra qua sotto. Poi un'altra cosa, invece, che volevo controllare è questa. Ok. Dove era la flotta qua sotto. Perché ci serviranno, naturalmente, un po' di armate imperiali per andare a prendere questa parte del Guangdong. Non so quanto mi costerà. Io ipotizzo 5 di infamia. Quindi penso che comunque valga la pena aspettare ancora un po' di tempo. Nel prossimo episodio, poi, naturalmente, vedremo. Io vi ringrazio... Vi ringrazio... No, vi ringrazio i legionari per essere arrivati fin qua. E spero che seguirete anche il prossimo episodio, naturalmente. Per supportare questa campagna mettete un mi piace e condividetela con amici. E mi raccomando, non perdetevi il prossimo episodio. Nell'attesa, mi raccomando, date un'occhiata anche all'altra campagna in corso sul canale. Perché no, anche alle campagne già pubblicate e concluse. A me a tutti i legionari e a presto.